Per settimana sport siamo con Mattia Molinelli, centravanti della Cogornese. Allora Mattia, è stato bellissimo il tuo colpo di tacco, un passaggio che tu hai fatto al numero no a Larizza, che ha poi fatto il tiro e ha fatto gol. È anche bello, è stato al centro, sulla sinistra da parte di Brizolara. Allora Mattia, tanto gioco, hai tenuto la palla, hai aiutato i tuoi compagni, però pale e gol no, direi? Ah no, bisogna migliorare, quello che ho fatto fino ad oggi non basta, bisogna essere un po' più cattivi, sotto porta e speriamo col tempo che questa cattiveria arriva. Ad ogni modo ti sei presentato, ho visto più di una volta davanti al portiere a Leone, Leone è stato molto bravo e mi è stato molti palloni, però vi è mancato forse fare qualche altro gol che vi avrebbe permesso di non soffrire fino alla fine, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, più che altro bastava poco, basta un pelino in più di cattiveria per chiudere la partita, perché tirarla avanti fino al 52esimo, in più prendere un'azione quasi da gol all'ultimo secondo, dell'ultimo minuto, non ci sta. Quindi dobbiamo migliorare un po' davanti, più che altro devo migliorare e speriamo che devo presto. Ma Mattia, ho visto che tiri poco, come mai? Ah, questo non lo so manco io. Va bene, ciao Mattia, alle prossime, grazie, ciao, ciao.